Buonasera a tutti dalla Sirena, oggi sono qui al compleanno di mia nipote Fatima, ecco qua, sto facendo un video perché tutti mi dicono vai in tubi, 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 ma quali tubi? Vabbè scherziamo, oggi sono qua, ho fatto una pasteggiatina di mia nipote perché ha fatto il compleanno e ci sono tanti nipote che mi stanno guardando e mi stanno sorridendo per vedere se io mi vergogno di voi, oppure no, no, tutto tranquillo, tutto tranquillo, mi sono vestita tutta di azzurro perché mi piace, l'azzurro mi piace, mi piace l'azzurro, mi piace il fucsia, mi sono tutti questi colori, a te ti piacciono? Il nipote ha detto di sì, ma finiscila per favore, non fare queste cose, hai capito? Non scherzare con me, che sempre mi scherzano questi qua, ma io non voglio scherzate da voi, hai capito? Comunque a parte di scherzi, oggi è compleanno di Fatima, oggi è 16 anni, la nonna è venuta a trovarla, gli ho portato un piccolo regalino, qua ci sono tutti i ragazzi che mi stanno guardando, sono tutti ragazzi giovani, di 16, di 20, la più anziana sono io, sono la signora della televisione, no? Come sorridono, di là stanno tutti sorridendo e di qua stanno tutti piangendo, stanno piangendo che vogliono mangiare, le vedo tutte che stanno, tutti hanno il fiatone, ma che fiatone avete, di che cosa? Vi fa caldo? O volete mangiare? Dite, volete mangiare? Sì! Volete mangiare? Sì, sì! Hai visto? Vogliono sempre mangiare qua, va bene.